I mercati europei recuperano parte delle perdite registrate in mattinata, ma restano contrastati, dopo che Tokyo ha segnato la peggiore performance degli ultimi otto mesi. A Milano, Piazza Affari si muove in terreno negativo dello 0,70%. Fiat è sotto pressione insieme a Mediaset, ma è il comparto bancario a mostrare maggiore debolezza dopo aver sostenuto il Miptel nei giorni scorso. L'indice cede quasi tre punti percentuali. In ordine sparso le altre piazze europee. Francoforte guadagna lo 0,1%, Parigi perde lo 0,30% e Londra cede lo 0,10%. Sul mercato e le valute l'euro è stabile sul dollaro a quota 1,33 centesimi.